Il Dì della Merendina 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 L'usanza di portarsi sempre in pedreno un rametto di verde, che adesso mi scomento insieme là qui, e dice, fuori al verde. L'uovo per Pasqua. Ah, allora al verde lo gliela, ecco. Era questa tradizione. Ecco, questa tradizione. Ecco, adesso questa te la posso spiegare a te, perché tu hai il verde, ma dici, mi hai detto ora spieghi ti. Allora, quando ero ancora bimbo, era ancora questa usanza, durante la Quaresima, e in allora, come mi ha detto prima, le feste erano anche più sentù, che era anche meno occasione di festeggiare, e poi che era anche più, non che era le vie, non che era le macchine, e le tradizioni erano più sentù che adesso, no? Qualcuno si teniva in borgia un rametto verde, e che era questa usanza di dire, fuori al verde, se quell'altro, che mi grodicevo, il gheleva, non succedeva niente, se non gheleva, come il pegno doveva pagare l'uovo per Pasqua. Ecco, oggi siamo qui a Roncopiano, non è proprio Pasqua, come il marito. Ecco, era in colorà, però adesso le vernici, in proibì per chi fa male, gli abbiamo cercato i colorari, con i coloranti naturali, insomma, non è proprio bianchi bianchi, ma neanche colorà, e doveva pagare l'uovo. Queste cose qui, magari, se succedevano fra un ragazzo e una ragazza, ti ricordi, becca, no? Magari, se lei l'allongeva il verde, invece che dargli l'uovo, la poteva pagare il pegno dandovi un bacio. E mi penso che, a volte, magari, se quello che gli diceva così gli interessava, anche se l'allongeva il verde, può darsi che non lo tirasse fuori apposta, no? Per farsi dare il vaso. Ecco, adesso è il momento più, l'ambiente più adatto, l'è proprio qui a Roncopiano, che ancora, come l'ha detto Becca, se balava, se feva tutto, come oggi, l'è proprio il momento, davanti a questa bella natura, che hai detto, beh, è il momento più adatto di parlare di queste cose. Allora, tu lo sai che dopo, se ti ripasso il microfono, sa che dopo che era anche Ruzzolini, Escocini, ecco, allora parlimi di quello adesso, e poi sentimmo anche un po' lo... Allora, prima di tutto, Escocini, adesso lei è diventata una cosa da soldi, perché ferma la fila, pagheva 500 franchi, chi ciappa il buon, chi ciappa il buon, chi ciappa il cattivo, chi ciappa il cattivo, non ce l'interessa niente. Mentre Escocini, vero e proprio, il fiume Albo, l'era un'arte, era chi ingannava, toleva una faraona che la fesse gli uvi circa come le galine, siccome i faraoni che hanno gli uvi più forti, magari sceglieva, e poi fregava magari l'amico con l'uovo più forte, era chi metteva l'uovo su per il camì, esempio, su per il camì, e lo lasciava seccare, che l'album dell'uovo diventava come il ricoccio, e veniva più forte, era in tutti i trucchi, e dopo lo sentivano, ma l'era difficile che un desse il suo uvo a un altro, dice no, mica il mio uvo lo teniamo, lo gestisci o metti, gestisci o metti, lo stanno becca che magari se lo tenevano in borgia, se lo era forte, anche tutta la quaresima, anche tutta la quaresima, tutto il tempo di pace, sempre quello, poi era chi, come diceva Marchetti, le impivano le cera, fevano un bucino, le mettevano dentro la cera, lo colavano e poi lo tappavano a modo a modo, che non si vedeva, questi erano tutti i trucchi, che lì per lì si venivano scuberti, certamente questo qui veniva un po' tolto per il cule, l'anno dopo un po', tu sa che il 365 lì, se smaltisce tutto, non si ricorda più niente, e ritornava al solito campione, mi ricordo il Dagne, che il Dagne non te l'ha conosciuto? Non si lo conosco. Ecco, l'era, l'era terribile, sigaretta, l'era famosissimo, e veniva già per lì, tutti in salo, ecco la sigaretta, lo vedevano arrivare, tutti pronti, perché diceva che l'era un di qui che aveva la fama, dei tre marini, ecco, ricca dei tre, ma gli ultimi che ricordo mi, l'esta, eh, Tullio, Tullio, l'era un, l'eaco, le giovani, da una certa età, un scoccinaio forte, poi l'era furbo, perché la furbizia, l'era anche come tenere l'uovo, se tu lo tennevi scuerto, se tu lo tennevi più sarà di battere in cima alla punta, magari, che era le contrattazioni, tu con la punta buona ti che batto la punta al cule, a capire, erano delle contrattazioni, che delle volte andavano di di avanti, magari il di prima non si trovava in accordo, il di dopo magari si trovava in accordo, e Femescoci, che succedeva? Che quando erano alla fine della Pasqua, il lunedì di Pasqua, l'era eletto quasi un campion, a capire, stanno l'uovo più forte, magari, grea camiche, a capire, stanno l'uovo più forte, non so, un piccolo campionato, era un piccolo campionato, e poi dopo il piccolo campionato, veniva poi anche il secondo, però anche Tuglio, che è un buon uovo, l'elma ha vinto, magari perché l'elma ha battuto un po' da una parte, tu capisci, ecco. L'ho lasciato l'uovo finito a Cianca, che ne andavano avanti nello stesso quanti anni, 5-6 anni, minimo minimo, e gara sempre lo stesso uovo. Ecco, infatti questo l'era... Non mi inganì. No, l'era anche un... no, no, l'era anche un lascito, l'era un lascito veramente. Poi, che era delle galine, addirittura, che devono dimangirmi perché fessero più duri, tu capisci, e magari cominciavano a scegliere l'uovo, magari dopo l'uovo l'era da buttare via, logicamente, ma cominciavano a scegliere l'uovo due mesi prima, tu capisci, due mesi prima con i denti, tu capisci, adesso, forse che era meno dentiere adesso, perché adesso con la dentiera chiapperebbe la caglia al sacco, tu capisci. Non so dove sbatterlo. Infatti lo sentivano, fa vedere, Alberto, come fevene per sentirlo. E' che mi ricordo mio, fevene... Ecco, tra l'altro, ha anche il dito nell'orecchio, sì, perché rimbomba meglio. Ecco, perché così si sente, sì, si sente, effettivamente si rimbomba. Adesso a me non è che me ne intendi tanto, io non riesco a capire bene se l'è forte o no, comunque dal rumore proprio i sentivano e capivano, è per quello che i maditi sceglievano l'uovo molto tempo prima. Ecco, comunque, il lunedì di Pasqua se sceglieva il personaggio, va bene, e se sceglieva anche l'uovo, quell'uovo che l'era resta, sa, e l'era chi giurava, st'altro anno quello lì, come diceva adesso lui, è il grado di sicuro un'altra volta. Ecco, adesso Alberto, andiamo a un po' a parlarsi, che è qualcuno o altri che vuole dire come le... Ciao Mario, vorremmo dire in altri, ma parlare dei scocinari del paese, qui che è Pellegrini, magari se sa che era qualcun forte in questa zona qui, alle Valdari, in Doccia, a Roccopià, in Campania, lui probabilmente lo sa, no, se era qualcun forte. Proviamo a sentire... Ecco, sentiamo Pellegrini, però mi viene in mente una cosa, che Pellegrini l'ha dito... Parli molto bello! Pellegrini l'ha dito, vi ero un campione a mangiargli. Ecco, che era anche questo, che ieri i campioni dei mangiatori d'uovi, mi ricordo di aver visto, eccesso, mangiare 17 uvi. Come ho detto solo. Vabbè, si, mangiare 17 uvi, che era della gente, che arrivava a mangiare anche 20 uvi, si chiede, oltre a quello, va bene, che in allora era anche un po' di sghiscia, e non si vedeva allora di arrivare sull'uovo. Non aveva mangiare di prima, non aveva cenare la sera. No, ma, 17 uvi, 20, mangio cadetero, mangio più. Sentivamo cosa tu dì? L'ho mangiato 45, questo patto. Dai, se parla di uvi, dice, 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 quanti... Dai, quanti uvi hai mangiato? Io come uovi ne ho mangiati una quarantina, per scommessa, così. Quanto tempo? Ah, in due ore, neanche. 48 ore? Due ore. Guarda che questi sono 30, eh. E burri ho mangiati, eh? Beh, qui, ecco, vedete, a Roccobiano si comincia a scoprire anche dei campioni. Ecco. Allora, Alberto, vuoi che iniziamo a fare questa fila, eh, per fare lo scocino? Prima facciamo la fila, poi facciamo vedere come si faceva lo scocino, cercando di intendersene, perché non ce ne intendiamo più, però cercando di intendersene e scegliere l'uomo migliore, no? Allora, quanti siamo qui? Sette, otto. Allora, chi vuole venire qui con noi può venire, eh? Marusca, chi vuole venire, dai? Venite qui. Chi vuole venire anche Marco? Chi vuole fare la fila può venire qui. Chi è Marco? Vieni a fare il scocino con me. Tre. Quattro. Cinque. Marco sei. Marco lo favo io, perché lui fa un pezzo da mangiare. Allora, siamo in quattro, cinque, sei, sette e otto. Qui siamo sei, sette. Io le prendo occhio, lo vedete, eh? Però saprei già qual è il migliore, garantito. Allora, a questo punto, per riuscire a, per incominciare a scegliere, o il primo della base, bisogna fare una conta. si buttano, ognuno butta qualcosa, dai giù, dai, sono sonora e si è più sveglio, dai. Conta, comincia da Pellegrino, che. Ecco, allora Don Marchetti si sceglie nuovo. Ecco, Don Marchetti, guarda, io ti garantisco che avrei scelto quello. Comunque andiamo bene così, ognuno prende il suo, Marcaccio prende il suo. No, è il mio favorito, ma tu lo porti, te lo porti. No, è uguale, dai. No, è uguale. L'hammer è Pellegrino, che l'è più forte, l'è resta in ultimo. Ecco, devi cominciare tu. Vado a caffosi. C'è tanto il peggio, l'ho visto, la don, 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 lepre. Ecco, vinte sotto, l'è. Eh, Graciano. Graciano è un grande uomo. Facciamo un po' un po' l'alto. Marco, che è il vantaggio, eh? De sotto, che sta sempre che vince. Tu? Fa tu stare sotto ti? Vabbè, non ti vincio me. Eh. Eh, sì, guarda, so, bravo, Marcaccio. Allora, sotto, Marco. No, mi sono in vantaggio, ma qui. Vieni, Marcaccio, vieni. Ah, ah, ah. Passi a tu il colpo secco, eh. Passi a tu, eh. Sì, t'ha tolto quello lì che è il peggio. Non faccio l'alto. Non faccio l'alto. Non faccio l'alto. No, sto lì sotto. Sì. 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 Allora, becca, l'hai riva tu? Dè, ma? Ti glielascio le pene con penegrini? Sì. Dio. 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 E' bello andato, perché, perché di solito gli uvi rossi sono sempre più forti, di solito. Allora, no, fermo, eh. Ecco, vedete. Dopo ciò va il solito. Ecco, come avevamo detto Mario all'inizio, la Caterina ha riuscito appunto a tingere queste uova con colori naturali. Quelli che abbiamo usato prima erano bianchi, ecco, vedete. Quindi possiamo far vedere che con delle erbe, con delle tinte naturali, siamo riusciti a ottenere due colori. E' chiaro che non sono i colori delle vernici, però queste uova possono essere mangiate tranquillamente. Questo l'avevamo detto all'inizio, li riponiamo qua. Nel frattempo che io sono andato a prendere le uova, come è andato lo Mario e il Scottino, che io mi ero allontanato? E' successo che avevamo due uova campioni e se ne sono contesi Nardini e Sonora e erano tutti sempre racchetti. Allora, Checco vuoi venire a fare la fila? Allora siamo, guardiamo un po', tre, tre, sei, due, otto, in quanti siamo? Dieci, abbiamo il Baggiolo, qui la fila si allunga. Anche la Marusca, vieni, dai. Allora, sono trenta, tenete in mente che ne ho presi due di qui, quindi sono trenta. Allora, ma ha detto che c'era la vera signorina. Ah, ma ce ne sono tante qui, volete venire a giocare alla... Vieni, dai. Dai, vieni. Sto parlando con lei. No, ma io sto parlando con lei. Ma che c'entra timida cos'battere un uovo, venga qui. Dovessi fare il Zomaglione. Cristina qui, dai, vieni qui, vieni qui. Cristina, io ho bisogno di una bella donna vicina, se no non mi scateno, dai, vieni qui. Vieni qui. Dai, vieni qui. Tanto il Maizio è stata riprida. Prima? Non è già riprida. Ecco, prima cosa è, prima cosa è una piccola intervista, di dove sei? Di dove sei? Stai, su, di dove sei? Di Firenze. Quanti anni? 27. Quanto è che viene a Fiumalmo? Da 6 anni. Avevi 6 anni? No, da 6 anni. Da 6 anni? Io non ti ho mai visto fino adesso, sono proprio un povero vecchiaccio. Stai a sentire. Hai mai visto questo gioco qui? No, mai. Allora adesso lo fai con noi, questo qui è un gioco che è l'usanza di fare il lunedì di Pasqua, il giorno della merendina si chiamava, qui la chiamava Pasquetta in Toscana, vero? Il giorno della merendina perché le coppiette, come ho spiegato prima, andavano per i prati, prendevano dietro il panino, il mezzo litro di vino, specialmente quello che facevano quaresima di non bere e poi se ci scappavo facevano anche lo scoccino. Adesso qui partecipa con noi, dai venitemi qui, 2, 4, 6, 8, 10, ci contiamo in 10? Magari Mario se vuole venire qualcun altro. No, 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 facciamo 12, dai, dai, no, facciamo più lunga. Sono altri marroni. Sono di Gallina. Berto, fai tu il conteggio, dai, ecco allora. Pagati tu Marco. Devi buttare un numero con le mani, eh? Sì. Buttiamo un numero con i pronti? Via. Allora, 2, 5, 4, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 26, 28. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28. Oh, ma. Oh, ma. Il mare becca, nello. Il primo e l'ultimo. Il primo e l'ultimo. O questo o quello. E mi gioca questo. E questo. E questo. Sto tolto. No, 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 no. Mario, cambia. No. No, è rotto. No, è rotto. Dove l'ho rotto? E' rotto. Forse rotti, vieni anche il campo. Adesso chi è che gira? Sì. Ma metti. Sembra il mio tino. Sì. Maggio. Ben male. Sì. Sotto, dai che lo voglio meglio. Tanto stavolto è perso. là l'ho visto quella marcia aaah vieni qua dai che vuoi fare? e che vuoi fare? bisogna picchiare così lui picchia e io che devo fare? cosi la tieni così no, te lo stai sotto qui devi picchiare te con la punta vado piano piano Giano, guardi qua, Giano, viva, hai vinto te, hai vinto te, adesso devi stare sotto te, devi stare sotto te, no, 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 ho vinto io, non ci puoi, adesso che prendo il suo, no, prendi, no, prendi, no, prendi il suo, suo, devi stare sotto, non è questo che avanza sotto, è proprio il tuo, lo prende, no, guarda questo è spaventato, questo, è questo che è, visto che ha vinto pure senti di sotto, ma che prende, un uova vince, guarda, guarda, c'è un uova di ferro, guarda, 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 guard adesso io direi una cosa quante file me ne ho fatto? quante file abbiamo fatto? la vinte no per pagare i uomini io ne metto i nienti quante file me ne ho fatto? ognuno paghi solo ognuno stavate 30 più qui chiamato 8 no però questi due che erano rotti 30 sarà 30 vediamo se torna il conto 35 per una finta mi hanno fatto 4 file no non ti ha capito non so io ero in 30 30, 35 quindi qui dal scocino noi passiamo al ruzzolino il gioco è ancora più vecchio qui in cosa consiste nel posizionare l'uovo sulla salita che vi farà poi vedere Alberto poi in cosa consiste anche nel scegliere un uovo che non abbia troppo basso o troppo alto cosa vuol dire? un uovo che sia affusolato questo uovo qui se lo lasciate andare fa le curve non va in una direzione giusta e allora ecco per fare il ruzzolino andremo bene un uovo circa così proprio senza una punta affusolata senza un coso per andare dritto ecco per bacco è qui in sale lo sai perché il ruzzolino? allora adesso noi di qui noi di qui ci spostiamo e andiamo a fare il ruzzolino va bene? ecco qui siamo agli ultimi preparativi per il ruzzolino eccolo qui là guardiamo un po' sbagliato anche questo arriviamo col terzo è una è un trebbio un po' eccolo Graziano ha vinto allora Graziano ha vinto con un uovo adesso si rinizia con un altro con quello che ha tirato prima quello lì e tira lui lo tiri dopo via via la lepra ha preso uno che ha tirato ecco il penultimo anche Alberto anche Alberto ha vinto l'uovo anche Alberto ha vinto l'uovo tira via quello che ha vinto Alberto eeeh Graziano ha vinto l'altro comunque devo dire che avete un bel sedere ragazzi ecco vai bene bene Marco Cane ritocca quello che ha tirato per primo per vedere sì solamente ecco eccolo l'ha preso l'ulta hai ripreso il tuo allora come vedete ecco questo è il famoso ruzzolino molti ragazzi dei tempi nostri non l'hanno mai visto però vi posso dire che cominciava la mattina del lunedì di Pasqua il giorno della merendina e finivano a notte ecco finché le uovo erano quasi mangiabili perché via via che l'uovo poi si rompe va sempre meglio ecco ecco Alberto cosa dici di fare andiamo da Caterina ho visto che ormai direi che siamo giunti al termine perché siamo qui in un posto incantevole veramente proprio a contatto con la natura in una bella giornata calda però io direi che a questo punto di entrare magari un po' dentro al bar chiedere qualcosa alla padrona quella che ci ha cotto le uova magari tu che la conosci bene da anni di chiedermi qualcosa appunto come avevamo detto all'inizio di quando si balava di queste cose che avvenivano qua anni fa anche se noi oggi siamo stati tutti felicissimi di riuscire a rifare diciamo di queste cose possiamo dire che Terri Fiumalbo ha riportato Scoccino e Rossolino a Rocco Piano ha riportato Scoccino e purtroppo non è riuscito a riportarci il ballo ma sai adesso non c'è c'è la trattoria c'è la gente che mangia insomma i tempi cambiano andiamo a sentire facciamo una cosa se siamo vivi quest'altro anno balleremo fuori e seguiremo noi ecco nell'introduzione prima di questo servizio sulla merendina ti ho portato in ballo a Tino ma io mi portavo in ballo una volta quando siamo andati a ballare alla panichetta l'era lì della merendina quanta neve era? 30 centimetri e cosa successe? eh si andò ballare con le scalpe del camosino le prime casine che mi hai perso anche e dopo a Pegnudi per la neve per tornare aca ecco siamo tornati aca a Pegnudi dalla panichetta in mezzo 30 centimetri di neve questo per confermare quanto ti ho detto prima in che anno sarà stato? da tanti anni fa 40 parliamo di 40 anni fa adesso andiamo andiamo dalla Caterina un secondo un secondo un secondo ecco allora qui chiudiamo da Roccopiano il giorno della merendina siamo riusciti a fare lo scocino ti ringraziamo perché molte uova non hai bianne meno pagate oltre al ringraziamento vorrei che cara Caterina da Roccopiano tu porga in salute i nostri telespettatori chiudiamo con la Caterina è simpaticissima avanti allora mi devi solamente dire dal lunedì di Pasqua il giorno della merendina da Roccopiano Caterina vi saluta Martia tua mamma tua mamma probabilmente ha perso la voce vediamo allora la strozzo la strozzo dai cosa devo dire da Roccopiano da Roccopiano vi salutiamo ciao 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 Grazie per la visione!